Cerchiamo allora di approfondire alcuni settori di questi dati elaborati riguardo al tema della meccanizzazione agricola, macchine agricole, paesi, mercati e obiettivi. Allora in questo caso parliamo di macchine, siamo venti, operatrici, lo facciamo con Germano Facchetti che non solo è presidente di Assomase ma anche uno dei vicepresidenti di Federuna Coma. Allora il vostro settore insomma si sta ancora in qualche modo salvando guardando ai mercati per alcuni aspetti, quali sono allora i mercati di maggiore riferimento e anche gli obiettivi che vi proponete alla luce anche di questo convegno riflessione che lancia alcuni modelli possibili di sviluppo tenendo conto dell'originalità italiana. Chiaramente la prima cosa che stiamo facendo è quella di guardare tutti i mercati esteri possibili immaginabili e per quanto riguarda i numeri come diceva lei in questo momento sono tutto sommato ancora abbastanza positivi per alcune categorie di macchine e un po' meno per altre. Comunque oggi noi ci troviamo di fronte a sostanzialmente due mercati, uno tra virgolette povero dove possono dar bene le nostre macchine che già produciamo e già costruiamo da diversi anni mentre su altri mercati tra i quali anche l'Italia invece abbiamo sempre bisogno di macchine tecnologicamente sempre più innovative che sono poi anche fonte tante volte di alcuni finanziamenti che i vari paesi nel caso dell'Italia le varie regioni danno per la sostituzione del parco macchine esistente. Quindi diciamo ricerca, sviluppo, innovazione si affiancano appieno a questa internazionalizzazione che poi accompagna il vostro settore anche perché l'obiettivo come traguardo immediato come evento sarà EIMA International qui a Bologna. Per quanto riguarda l'Europa sicuramente l'EIMA è l'appuntamento più importante. Poi chiaramente cerchiamo di partecipare come aziende italiane un po' tutto con le fiere nei vari, non dico continenti, ma nazioni tipo Cina, India, storie varie che ci danno un po' di respiro a raggiungere determinate vendite e fatturate. Pier Silvio Maier è presidente di Assomai, praticamente rappresenta i costruttori di Implements, macchine agricole, operatrici, lavorazione terreno, semine, irrigazione, macchine per allevamenti, raccolta. Insomma praticamente tutto il mondo della meccanizzazione agricola che in qualche modo non è trattrice, adesso la semplifico in qualche modo. Un settore che per alcuni versi, alcune produzioni sta ancora tenendo il passo, ma quali sono invece i passi obbligatori da fare per tenere davvero le redini di un mercato sempre più difficile con alcuni paesi da monitorare e con alcune idee nuove da svolgere? Allora la cosa principale senza altro è l'internazionalizzazione, l'esportazione è fondamentale, veramente fondamentale per quanto riguarda tutte le aziende del settore, Assomau rappresenta tutti i costruttori di Implements e di macchine agricole e l'internazionalizzazione è la chiave di volta di tutto quanto. Poi c'è il discorso dell'organizzazione, diciamo della produzione e dell'innovazione. L'innovazione è praticamente l'altra chiave assieme all'internazionalizzazione importante e le nostre aziende sono tutte in questa direzione, cioè sono presenti sui mercati internazionali perché fanno innovazione e i prodotti che vengono fatti e le macchine che vengono fatte sono di altissima qualità. Ecco il tema del Made in Italy, della meccanica agricola, quindi una manifattura importante e quindi tiene ancora banco al di là di alcune aree di crisi che insomma da quello che abbiamo dipinto anche nel corso della puntata sono spesso frutto di congiunture anche momentanee, non solo di lungo periodo, stilicizzate. Sì effettivamente il Made in Italy tiene ancora banco, importante è andare sui mercati ed essere convinti di rimanere su quei mercati. Io ho l'esempio della mia azienda che è di piccole dimensioni però arriva a fare il 98% di esportazione quindi siamo orientati verso l'estero ma per rimanere sui mercati dobbiamo essere presenti con un prodotto di qualità e con un'organizzazione che possa dare il supporto agli agricoltori del paese in cui si va a esportare. Siamo un paese di piccole e medie imprese, la prima che viene citata, questo è un dato di fatto. Positivo o negativo? Non lo so, parliamone, però è quello che siamo, siamo fatti così. Un paese fatto di piccole e medie imprese, fatto di imprenditori, fatto di aziende a proprietà familiare e il manifatturiero che vince, questi alcuni dei capisaldi che rappresentano in qualche modo l'originalità italiana ma è una originalità da perseguire che può diventare un punto di forza. Questo almeno è quello che ci ha raccontato Marina Puricelli, ricerca, formazione e management del mondo SDA Bocconi. Allora, come gestire un'impresa nostra nella meccanizzazione agricola cercando di trasferire questo patrimonio di grande tradizione, guardando però questa sfida che ci porta in un 2050 con un più 70% di bisogno di cibo con 10 miliardi di persone? Beh, innanzitutto bisogna partire da quello che c'è e non continuare a lamentarsi per quello che manca e che credo realisticamente non avremo mai. Noi siamo un paese fatto di aziende che hanno le quattro caratteristiche che lei prima citava che prima ancora di essere un limite sono una nostra specificità e quindi in termini proprio di approccio io partirei dal riconoscimento di questa originalità. Subito dopo però direi punto a capo, cari imprenditori, non sentitevi un incidente di percorso, non sentitevi limitati da questi quattro elementi, la piccola dimensione, la proprietà familiare, la vocazione imprenditoriale e l'operare nei settori prevalentemente manifatturieri, ma cercate di cambiare, cambiare strategie, cambiare organizzazione perseguendo quelle che a mio parere sono le caratteristiche distintive di un'impresa forte. Ve ne cito alcune, tre. L'orientamento a lungo periodo, la specializzazione, quindi concentrarsi su combinazioni, formule imprenditoriali per cercare di migliorarle rendendole visibile. Terzo elemento, la dimensione, trovare una dimensione che sia coerente per sostenere la competizione nel settore di riferimento. Non ritengo che piccolo debba essere per forza sempre bello, sebbene sia una caratteristica del nostro modello di sviluppo economico, ma non credo neanche che grande debba per forza essere necessario. E c'è un settore che continua il suo trend positivo, che è rappresentato dalle macchine per il giardinaggio, il garden, il verde. Franco Novello è presidente di Coma Garden e a questo punto cerchiamo di capire se questo trend ancora positivo è determinato da una capacità del made in Italy in questo caso o se siete stati così bravi da mirare ad alcuni mercati che assorbono la nostra produzione. Naturalmente sono entrambe le situazioni, diciamo che il mercato europeo del garden ha già recuperato, è tornato sui valori abbastanza vicini a quelli che erano i valori del pre-crisi del 2008-2009, per cui mediamente gli imprenditori del settore europeo sono in generale abbastanza soddisfatti. Dunque i produttori italiani si inseriscono in questo stream, diciamo, in termini positivi e di conseguenza traggono in generale un beneficio, specialmente quelli che si sono dedizionati di più all'esportazione. Ecco, sembra quasi un controsenso perché in un momento di congiuntura il verde vince. Ovviamente stiamo parlando di un verde in senso generale perché riguarda insomma anche il mondo dell'ambiente, il mondo delle comunità. Cioè questa nuova cultura del verde c'è o noi italiani le facciamo bene le cose per gli altri paesi? Diciamo che la cultura del verde sta prendendo, continuando sulla sua linea positiva un po' in tutta Europa, diciamo è un trend ovviamente mondiale, è il trend dell'ecologia, del rispetto della natura, una cosa che resterà sempre anche se si lega alla vita familiare in termini positivi. Chi fa delle macchine anche diciamo adattate o più moderne per il settore del giardinaggio come viene visto oggi si trova in una condizione ovviamente più favorevole. Noi pensiamo che questo settore sia un settore che ha un futuro diciamo buono, positivo e lo vediamo positivamente. Ecco, un ottimismo che si riverserà chiaramente nella prossima vetrina, più importante per quello che riguarda il settore in generale che è il My International a Bologna a novembre. Certamente, ovviamente tutti i produttori italiani, ma non solo produttori italiani e giardinaggio saranno presenti. La vetrina è interessante, non è più una fiera italiana e basta, è una fiera internazionale, è una vetrina diciamo rivolta all'Europa, rivolta anche diciamo al Nord Africa, a tutti i settori. I produttori dunque saranno presenti e noi ci aspettiamo di trovare tutti i nostri colleghi con tutte le novità che saranno quelle del settore, con attenzioni particolari ai prodotti più innovativi che nel nostro settore sono i prodotti a batteria, la robotistica diciamo che sostituiscono i prodotti più tradizionali o perlomeno si affiancano in maniera importante ai prodotti più tradizionali che sono quelli con i motori a scoppio, guardando diciamo aggiungendo un quid di tecnologia nuova a un settore che ha un passato ma guarda ai giovani, guarda il futuro anche. È il simbolo della meccanica agricola ma in me in questo momento è anche il sintomo di una congiuntura generale. Stiamo parlando del trattore o meglio delle trattrici per usare il gergo giusto e cerchiamo di fare il punto a questo punto con chi rappresenta appunto questo settore Maglio Martilli, Argo Tractors come appartenenza ma presidente di Asso Trattori. Abbiamo parlato di un meno 7 per le trattrici, abbiamo detto quanto si è perso in alcuni mercati importanti che sia la Germania, gli Stati Uniti ma anche l'India o il Brasile però insomma le trattrici del made in Italy manifestano ancora la loro capacità di penetrazione quindi probabilmente c'è semplicemente da cambiare il passo o da guardare altrove. Sicuramente sì, la tendenza alla flessione congiunturale negativa è confermata permangono delle incertezze anche relativamente alla seconda parte della stagione sicuramente occorre guardare il futuro con fiducia dal momento che le nostre aziende italiane sono il simbolo dell'eccellenza tecnologica e manifatturiera e il made in Italy ancora una volta è un elemento che connoterà sicuramente il fatto che le nostre aziende saranno pronte ad affrontare un'ipotesi di risalita per il prossimo biennio. Ecco, tra l'altro in questa fase si inserisce anche l'appuntamento per voi più importante che è EIMA International, anche un'occasione, non solo una vetrina, incontri internazionali, B2B insomma il modo di assaggiare stando coi piedi qua anche quel che succede davvero in tutte le altre parti del mondo. Sicuramente è una vetrina di eccellenza che conferma ancora una volta quanto un appuntamento espositivo come quello di EIMA che metterà insieme 1900 espositori e punterà ad avere il record assoluto di visitatori si parla di un numero superiore alle 250.000 unità per tutta la durata della Carmes sarà sicuramente un'occasione ancora una volta per esibire la tecnologia e l'eccellenza dei costruttori del settore quindi ci aspettiamo all'EIMA.